Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Brawl Stars Arriviamo a 1000 like, condividete il video e schiedete a canale Se no vi lascio la hashtag a Brawl Stars qua sotto nei momenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata Domani, domani dovremmo ipoteticamente riuscire a prendere Draco in maniera normale Vediamo se ce la facciamo ragazzi Ho pensato da parte tutto il possibile perché non volevo shoppare una lira per prendere Draco E volevo prenderlo nella maniera più normale possibile Domani vedremo che cosa succede Intanto oggi andiamo a fare una bella cosina Ci andiamo a prendere una skin perché da tanto che non ne prendevo E sono tornato di nuovo oltre le 5000 bling, ok? Quindi assolutamente da tanto che non prendevo skin diverse E' uscita oggi una skin interessante che è Eve Motra Che sarebbe una delle nuove skin di questa stagione Me la vado a prendere immediatamente con i 5000 bling Tanta tanta bella roba E ce la andiamo a giocare un pochino insieme Ci andiamo a fare un po' di partite con questa skin stupenda Ovviamente è una skin che dovrebbe far parte della classificata Quindi si può trovare anche lì Ok vai ce la andiamo a prendere Ci andiamo a fare un po' di partite E andiamo a farci una bella dominio Se non è capitato con QLS a random Ciao ti saluti Di là c'è un QLS uguale Va bene? Tanti italiani ragazzi Li salutiamo tutti Non so se li beccheremo per sbaglio Chi lo sa Ok intanto azzarderei un bel centro così Così cominciamo a prendere punti a pezzo a pezzo Perché possiamo E' quella che mi preoccupa un po' di più però eh Questa qua che deve morire Ok Vai Preso Preso pure lui Benissimo Non sto giocando alla grande Devo ammetterlo Voilà Presa Lo tiro questo cosino lì E dovrebbe andare a dargli fastidio L'importante è che gli dia fastidio Se ce l'avete Olè Eccolo qua Mo lo piglia pieno Scappa Scaccia One E uno è andato Diamo un po' se riesco a eliminare pure lui Mamma mia che kill Con la matrona Ok Vediamo un po' se riusciamo a No Brutta del soncino che non sai altro Io ti attacco la torretta e la leviamo subito Perché tanto tu quello volevi fare Volevi sfruttare il bonus della torretta Ok Oh mazza che mira ragazzo Complimenti Va bene Mettiamo il nostro Omino Che adesso andrà lì Perfetto Ora gli va incontro Da fastidio Sì un po' Olè Quello lo pigiamo Ciao Ne Aiuto Volevi farmi esplodare la roba addosso Eh che fai Compagno Compagno di squadra Cosa combini Eh no ho sbagliato Cavolo Eh sì Quella la devo mettere a riparo Invece non l'ho messa a riparo Ok Questo lo eliminiamo No Perché ho una mira scarsissima Anche perché Dai però Mi fanno esplodere la roba addosso Molto fobie Dai Portate a casa comunque Apriamoci intanto un bello star drop Raro Tristezza Va bene raddoppio Allora Altro dominio La sto facendo insieme a GX Cristiane Che mi ha detto Sei scarso Ti carrio io Ecco a posto Già cominciano Che guardano le partite E mi dico che sono scarso Ok Allora qualcuno è arrabbiato Che ho preso la skinnina Eh beh che devo fare L'ho presa Basta Fine Non vedo vedere Arrabbiare così No Ok Eh sto per morire male Morto malissimo Rimasto con 600 di vita Eh niente Cominciamo già male Vedo eh Siamo ritrovati contro gente Interessante E abbastanza forte Tembrerebbe Eh volevi eh Volevi eh E invece no Vai da Cristian Bene così Aia Ammazza con lo spike Però santa miseria Ma che livello stiamo giocando Chi sono questi Cristiano Quante coppe stavi tu Che non l'ho visto Mannaggia Mannaggino Mannaggetto Eh niente È riuscito a ricaricaggiarla Super qui Sì ho capito Ma non mi fanno avvicinare Non mi stanno A far avvicinare Da non credere Però uno dei miei piccoletti Mi sa attaccato Perché ho visto la mia super Un attimo caricarsi E c'è un motivo Per cui si carica Di solito Ok Va bene così Vediamo un po' Se riusciamo a curare I miei compagni Con i piccoli Ok Grazie delle cure Molto gentile Niente Non ce l'ho fatta Vai doctor Tocca a te No niente Neanche doctor Ce la fa Ho fatto una kille Per sbaglio Penso con uno degli animaletti Comunque siamo in svantaggio Molto tattico In tutti i sensi Chi altro perché I nostri nemici Sono molto aggressivi Da un punto di vista Specialmente il carletto Può essere un grande problema Lo spike lo stiamo gestendo Adesso eh È così Ah L'ho preso Preso il Carl E niente Già Gli è bastato un colpo Per eliminarmi il cosino Mannaggia la miseria Allora uno l'ha eliminato Due sono eliminati Dai che possiamo vince Dai che ce la possiamo fare Ribaltare sta partita Vai Christian Facci sognare Christian Devi farci sognare Christian Mi raccomando Eccolo Eccolo il carletto eliminato Vai Tanta roba Ha eliminato anche il cerchietto Eccolo Esci di qua Esci Mamma mia come sei uscito Eh però mi hai preso pure Aia Quella l'ho sentito No doctor No ce la possiamo fare Siamo ancora in tempo Per fare una grande caricata finale Oh madonna Ma ha devastato Ma ha devastato regà Mi ha fatto un massacro Dai È andato al centro Niente Non riusciamo ad andare al centro eh Non ci si riesce Eccolo C'è andato No dai che ci siamo Uh che tosta questa Andiamo a farci un'altra partitina E siamo sempre con GX Christian Siamo un po' di là Non mi sembra di vedere italiani Almeno che DJ Dado Non è un italiano Ok Vediamo un po' Se riusciamo a fare qualcosa Guarda quel tic Oh ma tutti col tic Mi piace proprio eh Mannaggia Tutti col ticchino Oddio Non sento l'esplosione dei cerchietti Dei cosi del tic Ma perché Ah ne sa perché So tipo con la skin energetica Non riesco a riconoscere Quando mi attaccano In pratica Ok Vediamo un po' Se riusciamo a No niente Questa è Instant persa Questa non è persa Instant persa Abbiamo questo Ottimo compagno di squadra Niente Non ho preso nessuno Ma guarda come schivano Alla grande poi Niente Stiamo già al 50% Aia Abbiamo preso il centro Forse possiamo fare come Alla partita precedente Un recuperino alla fine Oh il Dynamek Si è svegliato tutto insieme Complimenti Dynamek Ole Preso Vai Questa la tiriamo lì Io farei Un'abilità cura Dovrebbe arrivare Tra poco Porca miseria Sto a morire male Eh si Ok ho curato Cristian Mamma mia Tanta roba Vai Cristian Resta al centro E mangia per noi Sì sono la Ive curatrice Eh ma sa che non ce la famo No sta ancora al centro Cristian Yes Tanta roba Eh vabbè però Ok Eliminata la torretta Mh Diamo un po' Se riesco a infastitire sto dick No vado direttamente sul Sandy Olè Niente Volevo tirare con predict Ho sbagliato Stavolta l'ho preso Vai un po' Com'è non ho riuscito a entrare Com'è non ho riuscito Oh aiuto No non l'ho fatta a tempo Vinta Una bella star drop Andiamocela ad aprire Rara 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 tristezza Che ci darà Monete Cristian mi ha detto Andiamo a fare da po' Che è meglio Vediamo un po' Cosa succede Aia Ho un po' Di Paura Ok Non ho visto la mappa Quindi non so bene Cosa mi devo Mi devo aspettare un dynamite Ecco che mi devo aspettare Un dynamite che scurna pure male Porca miseria E niente Oh Mi ha preso due orte Per cavolo di E ho capito Però mi piace sempre No Ho saltato male E niente Mi prende Mi prende Mi prende Mi prende Mi prende Non è vero Ma è quasi preso Oh Mamma mia Non so cosa E come l'ho schivato Regà ma l'ho schivato L'ho schivato E lui non lo piglio però Oh Non lo piglio Preso Yeah Il incrociata con Cristian Involontaria Perché Si stava mettendo di cattiveria Oh Niente Ah Quel dynamite che però Ha rotto tre quarti Eh Preso Due orte Fiscio Vai Madonna non è morto Che grande cuore che c'hai Si stava di Cristian No Il dynamite C'è una fortuna incredibile Questo dynamite Era morto in pratica Doveva morire Eccolo che torna Niente Molto aggressi Per il loro dynamite Diciamo che è stata un po' Colpa sua che hanno perso Eh Non hanno perso ancora però eh Dobbiamo stare attenti A quello che dimo Perché stanno là Una sta No sta qua Stanno tutti e due qua Eh L'ho presi Non è vero Si L'ho presa Eh E' nato pure il piccolo Tanta roba Ho avvelenato il curatore Eh però Santa Eh vogliono più a me Vogliono più a me Hanno capito Hanno capito No ma hanno avvelenato Con qualcosa Ma non mi ha preso lui però Oh Ma dove sei arrivata Ma l'avete vista Ma l'avete vista quel cavolo De viaggio ha fatto Eh niente Sto per morire Guardalo Guardalo Eccolo Lo vedo No non lo prendo Non prendo manco lui Nulla Guardalo Oh Oh non muore Morto Eliminato Vai così Niente Sono morto io Tocca a te Christian Dai E' portata a casa Un'altra bella capoco Christian Vai E' così Siamo pronti Vediamo un po' cosa succede Allora Christian Ha messo Il tic Non so se riusciamo a inventarci qualcosa Intanto lei l'ho presa Ed è già tanta roba Ok Ho il cosino carico Non ho preso E' questo D'ho arrivato Mannaggia il gatto No Non salta Perché non salti E niente Non l'ammazzo L'ammazzo L'ho ammazzato io Regà Sono vivo con 20 di vita Mamma mia Cos'è successo lì No E' niente Christian more No dai che cuore Oh Addio E' n'ho presa E mo Dov'ai Vai che mo attivo i cosetti Vai che mo li attiviamo Ale E mo dov'ai Mo dov'ai Wii Guarda come scappa Pia del cosino E beh Il veleno te lo sei preso Intanto uno Ne sei presi due in verità Mo mori E mori Non more Oddio So scarso Se vede So scarso tanto Riusciremo a farne un'altra Chi lo sa Ora lo vedremo Ho preso E niente Mi si è attirato la pubblicità Come si è la pubblicità Come si chiamano Come viene la parola Non è morto Non è morto Non è morto Nessuno Do stanno De qua Tutti de qua E niente Non lo prendo E il gatto Mi arriva Gatto mi arriva No gatto Non è ancora arrivato Ancora non ci prova Ci ha ammazzato Chi è la piper Le Andiamo un po' Io qualcuno Assolutamente no Non ho preso mai Con la piper Guarda la miseria però Se arriva gatto Mi rovina Se stelta Gatto Io sono rovinato Eccolo Aia C'è mancato un pelo Guarda come non è morto Io non capisco E niente Lo sta a cura Arriva No Arriva gatto E niente Andalo dellà No non ci posso fare niente I miracoli Ancora non li so fare Però potrei provare No niente Un po' troppo Un po' troppo Peccato La prima sembrava Andare tanto bene Probiamo andato Qui a destra di nuovo Azzardiamo Aia Ok Sappiamo dov'è la piper Oh guarda il gattino Guarda il gattino Che ci prova Eh si ci riesce pure No Che cuore E niente Ah Porca miseria Mi sono distratto col gatto Sompirla Sompirla Questa è fattibile Mannaggia a me Ok Quello more Fanno due contro uno Non grazie a me di certo Vai Christian Porta a casa la vittoria Vai Vai Christian Sei tutti noi Christian E anche WV Non ti conosco WV Ma sei tutti noi Anche tu Dai Farlo per Farlo per noi Farlo per il canale Farlo per il content Ok Quella piper si sta spostando Si sta preparando A zampare Vai Ha tirato il cosino Ha aspettato proprio bene No Mamma mia come Dai Sarò salvata E niente ragazzi Questa era Yves Mothra Veramente bellissima Come skin L'ho presa appunto Con i 5000 Bling Ringraziamo anche Christian per aver fatto Le partite insieme a me Così abbiamo fatto Poi delle partite Interessanti Vediamo mille like Condividete il video Scrivete al canale Se no vi lascia l'hashtag Brostars Qua sotto nei momenti Per il gioco ricino E ci vediamo Nel prossimo video